Ciao a tutti, oggi andremo a preparare un caffè shakerato. Prepariamo in una tazzina un espresso lungo. In uno shaker mettiamo un buon quantitativo di cubetti di ghiaccio. Zucchero di canna e dello sciroppo di vaniglia. Ed infine il nostro caffè espresso. Una volta chiuso lo shaker non ci resta che shakerare a lungo fino a ottenere un cremoso espresso cellulini freddo. Da versare poi in un bicchiere capiente largo che sarà possibile decorare a piacimento. Buon shakerato a tutti! Grazie! 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 Grazie!